Pasta bistecca, farfalline al sangue Tific Italian Style Tamponiamo la nostra bistecca da eventuale sangue in eccesso Con il tovagliolo del nonno e prima Mi c'ero soffiato il naso perché c'avevo gli smocicci Poi si va a spagliare un olio Mettiamo un po' di sale, sale grosso, pepe E poi si va a girare dell'altro sale Ma ora non è che sia una bistecca di un chilo Poi il sale va messo dopo Non voglio fare gianzina ma io sono stata in Italia A studiare le ricette in persona Cipolla viola presa a fiesole L'aglio compensa la cipolla Vedete, tot aglio, tot cipolla Tagliamo adesso le patate Ma in realtà questo gli è formaggio Formaggio giallo fatto col pecorino Che l'andata male e scrauso In pratica gli è burro fatto seccare Po' tagliato a modo di carota Ma si fa bollire l'acqua per buttarci la bistecca Ah no, meno male Ma gli americani sono po' cani a fare queste cose Però io non lo volevo dire La bistecca con le farfalline Ma andiamo via Ma lo sanno tutti Con tortellini si mangia In questo temame, cipolla, della toscana Ci si va a mettere l'olio E poi dobbiamo mettere la bistecca Ma perchè da... come male c'è una cosi? Allora su questo regale cipolla Ci si butta dentro la bistecca Quindi diciamo la bistecca affogata E' l'olio Vai, l'olio, sale, pepe Ci si lascia quattro giorni E' come, guarda, una cosa squisita I cinque giorni ragazzi E si va a soffriggere Bistecca fritta Di buona anche una ciabatta fritta Ecco, chi usa questo aggeggino Di solito la sera Prima di andare a dormire Quindi anche le goccioline Per come è calmante Perchè l'ho visto fare tante volte Il termometro per misurare La temperatura della ciccia Per vedere se gli è pronta la carne Vedete, loro li hanno studiato Dobbiamo vedere Perchè se gli arriva a 24 gradi Per fare la reversing Per capire E avete anche studiato E vi ci vuole il termometro Lo sai in dov'è che ve lo dovete mettere Tra tutti il termometro? Si è capito Vi posso assicurare Che questo è comunque E' il vero ragù Alla fiorentina Che si fa a noi Perchè io avevo una zia Dello zio Italiana Quindi mi posso permettere Di dire come si fa il ragù in Italia Allora Mettiamoci un po' di parmigiano Con i soffritti Il parmigiano non l'abbiamo visto Interessante Chiaramente per rendere Tutto più americano Si va a mettere Milk One drink milk Un bicchiere di latte E si va a fare Questa sbrotaglia C'è le galline di garbacamp Quindi Aglio Cipolla Sale Pepe Bistecca Latte Io ci butterei anche dentro Un bocorino Ma ci siamo Poi mettiamoci sale Vi ricordo il sale Dell'altro sale Ancora sale 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 Però Mi fanno a me Che che guarda Deve una bontà Te lo fa vedere Ma perché poi Gli americani Quando parlano Devano fare così Allora ragazzi Oggi ho fatto queste Ho fatto queste 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 fatte asciutte Sulla bistecca Americana Ma gli è buona Ci butta il latte Ci butta il burro Ci butta la cola Oio 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 Capito Poi dice Siamo noi italiani Che si dice Tiola Va Gli garbati loro O vai Pranzo Dominicale Tipic Tuscani Proprio Questo di etrusco Lo facevano Etruschi Le farfalline La bistecca La panna Dell'altro sale Non dimenticavo Il sale Ma non sarà Un po' Un sicuro Mettiamoci Dell'altro sale Io ci butterei Un po' Di sale Guardate Questo taglio sembra gomma un pallone della supertele gli era più morbido a tagliarlo la tutela alla magia gommoso e stai te la tirino il muro ti ritorni andiamo anche tu porti e si va a mettere a tagliata guarda il pranzo della domenica toscana ma va a mangiare il tacchino ripieno con le castagne e la maionese e la marmellata e nel culo ti ci do una petata maremma pesta non ci veni a rompere a noi italiana stai tipiche ma in dove ma in dove tu la vista ta ricetta in toscana ma mi dici in due ma vada e poi via vada mi sono bello